Il Consiglio regionale unanime per la sicurezza ciclistica, approvato nella seduta del 17 aprile l'ordine del giorno primo firmatario il Presidente dell'Assemblea che aderisce ufficialmente alla campagna Salva Ciclisti e invita il Presidente della Regione e la Giunta regionale a mettere in essere tutte le iniziative necessarie per arrivare all'inserimento dei punti contenuti nell'appello all'interno della legislazione nazionale.